Allora, intanto mi presento, sono Andrea Guarneri, lavoro da Performance, sono Fullstack Developer e Team Leader. Non siamo un'agenzia, ma siamo un'azienda che sviluppa software. Quindi tendenzialmente abbiamo gli stessi clienti di un'agenzia, ma le nostre soluzioni sono soluzioni completamente custom o i nostri lavori riguardano espressamente ottimizzazione massima di un sito internet. Io personalmente sono laureato magistrale in informatica a Milano, all'Università degli Studi, e ho un master preso al Politecnico al MIP in gestione di impresa. Sono speaker e formatore, ho fatto lo speaker per eventi universitari e scolastici, adesso qui al WordCamp, e sono formatore nella mia azienda. Cosa andiamo a vedere in questo speech? Allora, intanto cercherò di annoiarvi il meno possibile con la prima parte teorica di Performance e WebCore Vitals. Mi hanno messo prima del pranzo per darvi la mazzata finale, ma cercherò di renderlo il più indolore possibile. Ci concentriamo sulla parte above the fold del sito, poi spieghiamo perché, e vado ad analizzare tre tecniche specifiche, che sono il preloading delle risorse, il CSS critico, e come servire le immagini in maniera corretta, diciamo. E poi, spero ci sia il tempo per le domande. Intanto parliamo di performance, quindi parliamo di velocità. Perché parliamo di velocità? Perché la velocità impatta sia sull'indicizzazione, sia sul posizionamento. Non solo su questo, impatta in generale sulla user experience. E perché è importante la user experience? Perché studi negli ultimi anni ce ne sono sempre di più che dicono che la user experience impatta direttamente su il tasso di conversione di un sito. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il migliore è la user experience del nostro sito, più profitti generiamo. E con questa frase avete venduto l'analisi e l'ottimizzazione del sito al cliente. Come la misuriamo? Più o meno ho identificato quattro aree, che corrispondono più o meno a quattro domande. Quindi, cosa sta succedendo? La navigazione funziona? È fluida? È corretta? Il server ha iniziato a rispondere alla mia richiesta? È usabile? Quindi, se io interagisco con il sito, il sito fa qualcosa in maniera più o meno veloce? È utile? Quindi, quello che la pagina mi sta mostrando effettivamente risponde a quello a cui io stavo cercando? E in ultima analisi, è piacevole che nel nostro caso significa lo scroll, le animazioni sono fluide, le performance della pagina, questo è un fatto magari un po' meno scontato, le performance si mantengono stabili durante tutta la navigazione del sito, non al primo caricamento? Come facciamo a misurare questi dati, queste aree, con questi indicatori? Penso che più o meno li conosciate un po' tutti, perché decine di speech o decine di articoli ne parlano, come vedete sono distribuiti un po' in tutte queste quattro aree di cui parlavo. Cosa c'è da sottolineare di questi indicatori? Che in realtà gli strumenti di misurazione delle performance di un sito non usano tutti gli stessi indicatori e tra l'altro non li usano alla stessa maniera. Cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio questi sono gli indicatori per Google Lighthouse. Tra per esempio la versione 7 e la versione 8 di Google Lighthouse, se prendiamo l'LCP, l'Argift Contentful Paint, il peso di questa metrica nel generare la votazione finale delle performance di un sito è cambiata dal 10-15% al 30%. E questo è quello che succedeva dicendo, ah ma fino a due giorni fa il mio sito dava 100% e oggi mi dà 70%. Perché? Perché nel tempo, chiaramente Google non a caso, ma in base a studi che fa, nel tempo questi indicatori pesano diversamente. Questa purtroppo si vede un po' piccola, ma non avevo un'immagine migliore, è un po' quello che succede diciamo nel mondo reale, quindi clicco sul link, ho il First Paint che è l'indicatore di quando inizio a vedere il primo elemento nella pagina, First Contentful Paint che è quando inizio a vedere tutti gli elementi della pagina del viewport, e poi First Manifull Paint, quindi quando carico anche testi e font e a cascata tutti gli altri indicatori. E sotto, più o meno, ho cercato di indicare questi indicatori a quale area della nostra user experience, che dicevamo prima, corrispondono quindi la prima parte a cosa sta succedendo, poi è utile e poi infine è usabile. Arriviamo ai Web Core Vitals, che cosa sono? Web Core Vitals sono tre metriche che vengono espresse sotto forma di range, quindi non c'è un valore univoco, ma è un range, per capirci sono i tre colori che trovate su PageSpeed o simili, che utilizzano, che sono basati su tutti i fattori che abbiamo visto prima. Nello specifico, i tre Web Core Vitals sono il Largest Contentful Paint, che corrisponde al tempo necessario a mostrare l'elemento più grande nel viewport, il First Input Delay, ovvero il tempo che intercorre tra il click che io faccio sul link, ha il momento in cui il browser risponde a questa interazione e il cumulative layout shift, che è un valore che praticamente viene calcolato sulla stabilità degli elementi nella pagina. Quindi calcola quanto gli elementi durante il caricamento cambiano di dimensioni o si spostano. L'abbiamo detto, ci concentriamo, ho finito la parte più noiosa, a parte questa slide ho finito la parte noiosa, diciamo. Poi noiosa, io sono uno sviluppatore, quindi è sempre soggettiva la cosa, però concentriamoci sulla parte above the fold. Perché? Perché la above the fold è la prima parte che viene caricata, è la prima parte che viene mostrata all'utente, e quindi possiamo dire che dovrebbe essere la parte più veloce. Quali sono le problematiche legate alla above the fold? Cosa rendono il caricamento della above the fold lento? Più o meno questi quattro fattori. Risorse bloccanti vuol dire che il browser mostre i contenuti quando carica e scarica tutti i CSS e JavaScript, e quindi chiaramente devo aspettare di segnare questa operazione, il main thread busy, cosa vuol dire? Vuol dire che l'interazione dell'utente è possibile solamente quando il main thread JavaScript è finito di essere stato processato, e la dimensione, la posizione degli elementi, come dicevamo prima. Vedete che queste problematiche rientrano nei web core vitals, tra parentesi potete vedere. Quali sono le soluzioni quindi? queste qua, ovvero, evitare caricamenti inutili. Cioè, nella pagina devono essere caricati solo i file JavaScript e CSS necessari alla pagina, non tutto il resto. Rimandare il caricamento inutile, le risorse nel body, nel footer. Quindi, appunto, spostare il caricamento di file JavaScript nel body e utilizzare il lazy load in maniera intelligente. Dopo vediamo anche un caso particolare. Il preloading delle risorse, che cos'è? Sono utilizzare i browser int per modificare il caricamento dei file in base a quello che decidiamo noi. Generare il CSS critico, che di fatto è il CSS necessario solo alla parte above the fold, e servire le immagini correttamente. Per la prima parte, cosa possiamo fare con WordPress? Di fatto, i caricamenti condizionali o caricamenti on demand. Cosa vuol dire? Vuol dire che non vado a caricare tutti insieme in maniera generica, ma l'inchiude file viene fatto in base a, appunto, se la pagina utilizza o meno lo specifico file. Questo chiaramente presuppone di poter spezzare sia CSS che JavaScript in più file. L'unico plugin di cui parlerò espressamente in questo talk è Asset Cleanup, che è un plugin utilizzato per ottimizzare i siti, e permette proprio di specificare per ogni pagina quale file caricare o meno. Quindi se non vogliamo farlo via codice, Asset Cleanup diciamo che ci aiuta in questo caso. Caso reale, prendiamo il nostro hook vp-en-q-script e qui dentro, nella nostra callback, possiamo specificare due parametri che ci aiutano. in questa operazione. Le dipendenze, ovvero specificare il mio file JavaScript, da quale altro file JavaScript dipende, questo fa sì che non venga caricato prima, generando al meglio un ritardo, al peggio un errore in console, e quindi anche tra l'altro potrebbe far rompere il sito. E l'altro parametro è l'ultimo, che è un booleano, che specifica se il file JavaScript che sto caricando deve essere caricato nel footer o meno. E quindi è proprio lo spostamento dei file, come dicevo prima, alla fine del body. Chiaramente questi vp-en-q-script possono essere wrappati all'interno di controlli specifici della pagina. Quindi avete un file JavaScript particolare, che fa delle operazioni particolari solo nel checkout, non ha senso che venga caricato in tutte le pagine. La vostra callback che fa l'inchiude di script avrà un controllo if it's checkout, o if cartes nel carrello o quant'altro, per controllare se siamo nella pagina lo carico, se no no. Preloading delle risorse. Allora intanto cosa sono i browser-ins? Sono dei suggerimenti che possiamo dare al browser, quindi qui non parliamo di WordPress, ma parliamo del browser. Al browser possiamo dirgli, guarda browser, questa risorsa va caricata subito. Oppure questa risorsa la puoi caricare quando non hai niente da fare. Chiaramente dobbiamo conoscere dove specificarlo. Quello che mi interessa è l'int preload. Che cosa fa preload? Dice al browser, guarda questa risorsa mi serve immediatamente. Quindi me la devi caricare subito. Preload deve essere utilizzata specificando anche che tipo di risorsa bisogna scaricare. Quindi se andiamo a vedere un esempio, qui il codice si vede più o meno, a look della WP-ed, quindi dove WordPress stampa l'ed della pagina, in questo specifico caso io andavo a prendere il logo specificato nel customizer del tema, prendevo l'url di questo logo e poi gli dicevo stampami un link con rel preload come as image, quindi come immagine, con questo link. stessa cosa per le icone. C'è scritto font, ma io sto parlando qua di icone. Perché? Perché tendenzialmente, un caso normale può essere che io abbia delle icone nell'above the fold del sito, contatti, le mail, il menu potrebbe avere delle icone. Piccolo suggerimento che non sono stato a spiegare, le icone o si utilizzano gli svg o si utilizzano come font, ma non come cdn, questo assolutamente, ma nemmeno carico tutta la libreria di Fontosum per usare quattro icone. Quindi ci sono dei software online, io uso Fontello, ma c'è anche icomun, ma probabilmente ce ne sono anche altri, che vi fanno scegliere da la libreria, ci sono tutte le icone di Fontosum e di altre, appunto, librerie d'icone, selezionate solo le icone che vi servono e vi creano un file CSS piccolino, carino, da poter utilizzare. Questa è la maniera corretta per usare le icone. Dopodiché, CSS critico. Ora, come generiamo il CSS critico? Chiaramente non a mano. Osmani, che è l'ingegnere software di Google, ci permette di utilizzare una libreria fatta da lui, che si chiama critical.js, appunto, che è scaricabile, installabile come pacchetto di node e possiamo portarla in qualunque progetto. Questa libreria cosa fa? specificando l'URL del sito e che nome vogliamo dare al file che viene generato, possiamo specificare tutte le risoluzioni dello schermo per cui vogliamo generare questo CSS critico e in automatico questa libreria ci crea il nostro CSS critico. quale sarebbe la maniera migliore per utilizzare questa libreria qua? Che ci sia un CSS critico per la maggior parte delle pagine diciamo importanti del nostro sito. Perché se voi generate il CSS critico dell'home page, ma non della pagina blog e magari voi portate utenti, portate traffico dal blog, nel senso l'ottimizzazione non serve a moltissimo. Perché è utile e ho voluto specificare che è possibile anche specificare dei parametri che si possono ignorare. Perché se prima noi abbiamo deciso di portare le nostre icone direttamente nella head dicendogli al browser caricameli subito e poi nel CSS critico noi andiamo a rimettere dentro il CSS dell'icone non è un errore però è duplicazione di codice e anche questo di fatto porta via tempo. Magari poco magari tanto dipende dalle situazioni. Per le risoluzioni di uno schermo è interessante perché è completamente personalizzabile quindi avete tutti gli utenti l'80% utenti Apple sapete qual è il device perché Google Analytics ve lo dice e potete creare un CSS critico specifico praticamente basato sui device dei vostri utenti. Qui come si porta dentro poi nel sito sempre nella head in questo caso la cosa interessante come vi dicevo è che come faccio a sapere quale CSS critico devo portare devo mettere nella head del sito se ho creato magari il CSS critico per tutte le pagine del sito. Banalmente noi dicevo alla libreria di utilizzare come nome il nome della pagina e quindi nella head del sito dicevo ok c'è un file che si chiama col post name della pagina su cui sei? Sì. Se c'è perfetto allora stampo due tag style e dentro mi stampi direttamente il CSS critico di questa pagina e così sono certo perché nella head che questo CSS è il primo che viene processato ed è il primo che mi serve perché è il primo i gerati cugini lo sanno e lo ripetono tutti a pappagallo ok si comprimono le immagini sempre si usa WebP grazie a Dio dalle ultime versioni anche Safari le supporta quindi possiamo usarli diciamo senza alcun tipo di paura cosa succede che WordPress della 5.8 supporta il caricamento della WebP ma non la generazione vuol dire che di fatto servirà o un plugin per generarli oppure ci sono le cdn che lo fanno in automatico però su questo punto bisogna ancora insomma trovare una soluzione e come dicevo prima attenti al lazy load perché bellissimo lazy load strumento fondamentale ma lazy load è utile nell'above the fold no perché perché quando io carico io sono la devo vedere subito l'immagine cioè il caricamento non deve essere lazy deve essere subito quindi il lazy load nella web default è utile per esempio se ci sono degli slider perché la prima immagine mi va bene che venga caricata subito tutte le altre può essere utile avere il lazy load perché non le vedo a meno che l'utente non scorra quindi attenzione a configurare bene anche la libreria anche se comunque penso che ormai più o meno tutte le configurazioni dovrebbero evitare questo questo problema ultima ultimissima cosa esplicitare with the date delle foto perché perché così il browser sa quanto spazio porterà via l'immagine cioè se l'immagine ci impiega un pochino a essere scaricata però il browser già prealloca diciamo lo spazio necessario perché sa quanto recupera questa immagine questa cosa evita che poi non so per esempio il classico esempio delle pubblicità caricate una pagina le pubblicità arrivano dopo vi sposta tutte e voi avete cliccato sulla pubblicità perché avete caricato un secondo prima ma come facciamo poi a generare correttamente qual è la maniera migliore possibile per avere delle immagini servite correttamente wordpress qui con la funzione wp get attachment image fa quasi già quasi tutto questa funzione restituisce l'html dell'immagine ma lo fa anche in maniera efficiente perché restituisce l'html con già dei tag i tag sizes e src set che aiutano appunto a gestire correttamente l'immagine intanto l'image size se servono è corretto crearsi le proprie image size quindi per esempio come esempio di prima ho un so che tutto il mio traffico è da mobile ho bisogno di un'immagine che è larga per forza 370 pixel può essere utile ai fini dell'ottimizzazione aggiungere il proprio ritaglio al tema cosa fanno questi due attributi questi due attributi sono sempre dei suggerimenti quindi non è qualcosa di wordpress ma è qualcosa dell'html che il browser interpreta sizes dice che guarda browser ha questa larghezza prendi l'immagine che ha questa larghezza qua quindi ha una certa risoluzione del viewport prendimi l'immagine con questa larghezza qui l'src set cosa fa semplicemente permette di specificare più formati immagine nello stesso tag tutto questo sembra una grandissima supercazzola ma visto così è un po' più comprensibile ovvero questa è un'immagine è un'immagine che nell'src set ha due formati specificati quindi una che è larga 480 pixel e l'altra che è larga 800 pixel nel sizes gli sto dicendo browser se il viewport è al massimo 600 pixel prendimi quella da 480 virgola 800 vuol dire in tutti gli altri casi prendimi di fatto quella più grande eventualmente si usa si usa così il tag sizes quindi si specifica la media query dell'immagine più piccola e poi gli si dice in tutti gli altri casi puoi prendere quella più grande perché ha senso fare questo perché diciamo computazionalmente è meno pesante prendere un'immagine da 480 pixel su schermi che magari sono anche 390 ok quindi comunque c'è un fattore di ridimensionamento ma è molto più piccolo che prenderne una da 800 pixel e ridimensionarla 390 quindi comunque si cerca di servire le immagini nel formato più vicino a quello necessario tutto questo fa sì che la velocità sia appunto migliore detto ciò io ho finito l'unica cosa che voglio dire marchettata finale è che noi in performance cerchiamo continuamente delle persone quindi se vi piace programmare vi piace sviluppare non avete paura di soluzioni completamente custom potete andare sul sito scrivere a me io sono qua in giro quindi poi potete rimorchiarmi e parlare di qualunque cosa insomma bene grazie mille fatemi un applauso grazie abbiamo 5 minuti per le domande e prima delle domande vi ricordo che se quando vi siete iscritti a WordCamp avete specificato che avete esigenze alimentari particolari per il pranzo che sarà la fine di questo talk qua uscendo a destra c'è la il catering qui potete chiedere quello che avete specificato all'acquisto domande per lui non per il catering io ho una domanda ok volendo io ho due slide in più quindi ok te la faccio visto che sono curioso non è di vito quando ovviamente le immagini già visibili nel viewport all'inizio above the fold non vanno caricate con lazy load però va comunque specificato con il meta preload che deve per caricare quell'immagine che è subito visibile giusto cioè la best practice sarebbe quella sì allora diciamo che se parliamo di immagini per esempio di uno slider non puoi utilizzare il preload perché il preload viene utilizzato di solito su link quindi però ecco diciamo che in questo momento almeno per i software che utilizziamo noi in azienda vabbè senza tanto e www per esempio è uno dei più usati in teoria il problema dell'easy load è già gestito quindi vi esula dal dover controllare ecco però sì volendo puoi anche specificarlo poi il preload se è necessario per delle risorse ecco puoi usare le altre due slider sì ma guarda è una roba velocissima allora intanto qui si vede poco questo è il sito da cui poi è nato questo questo talk che non è nemmeno completamente completamente ottimizzato però come vedete qua non si usano plug-in ecco io l'altro per scontato noi non usiamo plug-in per l'ottimizzazione dei siti quindi procket o robe simili ecco noi l'ottimizzazione le facciamo a mano dal codice quindi si possono raggiungere diciamo questi risultati qui e a fronte della chiacchierata questo è il diagramma waterfall e adesso non si vede perché si vede suocato ma la prima cosa scaricata è il logo perché ha usato il browser il secondo sarebbe l'orecone sempre per lo stesso motivo e poi per esempio in questo caso specifico io avevo uno slider in home page e quindi cosa scarico? Scarico il CSS e il JavaScript che mi permettono di far funzionare quello slider perché poi sì perché poi è la prima cosa che il mio utente vedeva ecco faccio anche io una domanda nel senso nel mondo degli unicorni tutti hanno i siti custom super ottimizzati purtroppo noi non viviamo in quel mondo lì e a me arrivano i siti disastro i siti che su GTmetrix performano 35 42 ok i siti da rifare e non sempre non sempre uno ci riesce perché magari il budget a disposizione non lo prevede ora la risposta giusta sarebbe va bene te lo rifacciamo tutto custom ma non non si vuole allora volevo capire qual è il tuo approccio perché tutte le cose che hai detto sono bellissime quando uno può mettere le mani ma quando ti trovi su 30 plugin è vero che c'è quel plugin degli asset però si hai voglia hai voglia a farlo e soprattutto poi ci sono alcuni strumenti alcuni temi alcuni plugin che addirittura piantano il codice delle immagini senza sfruttare le funzioni di wordpress e allora incomincia a crissonare dicendo cavolo io come faccio a uccare quelle robe lì quindi tuo approccio su siti che zoppicano e scappo via più veloce di una lepre allora ti do prima un attimo di contesto perché poi allora è chiaro che noi in performance performance è l'azienda di Andrea Cardinale intanto che molti conoscono lui è conosciuto perché è specializzato su ottimizzazioni quindi noi abbiamo dei siti che arrivano e fondamentalmente dicono ok questo sito deve diventare una formula 1 non tutti i siti possono essere una formula 1 o meglio magari a livello tecnico potete farla diventare una formula 1 ma se il cliente paga per avere una panda avrà una panda con tutto il rispetto per le panda quindi è chiaro che certi tipi di lavori si possono fare solo con certi tipi di budget nel caso specifico perché chiaramente non tutti i clienti hanno i budget ingenti perché comunque questa è solo la parte above the fold del sito quindi capite che e poi vabbè queste in realtà non sono tecniche che volendo si fanno post lavoro cioè sarebbero delle best practice da utilizzare quando uno sviluppa un sito perché vi portate avanti col lavoro allora intanto anche qui dividiamo ci sono i siti fatti con i builder i siti fatti non con i builder i siti fatti con i builder già partono con una stampella anziché con due gambe però detto ciò allora quello che si può fare intanto è sicuramente asset clean up viene in aiuto perché perché comunque anche un builder non ha bisogno di essere attivo in tutte le pagine non per forza cioè non è detto dipende da caso a caso oppure faccio un esempio contact for seven il CSS il javascript viene messo e incluso in tutte le pagine e nel senso è un plugin che funziona bene fa quello che deve fare ma questa cosa non è gestita e quindi asset clean up fa il suo poi quello che si può vedere è analizzare ok dei 50 plugin che ha questo sito quali sono quelli che performano peggio quindi ci sono degli strumenti diciamo per monitorare ok anche queste cose qui e da lì la domanda è posso sostituire il plugin quindi non posso rifare il tema perché poi di solito è il tema magari che affossa il grosso delle prestazioni ma posso almeno mettere dei plugin che funzionano meglio tipo non so non posso fare il nome ma l'ultimo sito che fattura parecchio che ha un plugin di recensioni che ritarda enormemente il caricamento della pagina perché ha una chiamata iniziale ok la nostra soluzione lì la prima cosa è posso lato codice modificare questo comportamento quindi ci sono filtri all'interno del plugin che posso sfruttare sì o no se no forse mi conviene sostituire il plugin probabilmente sì nel caso dei builder quello che si può fare è intanto leggere la documentazione che un pochino viene anche sottovalutata però molti builder hanno una parte dedicata all'ottimizzazione e poi di fatto si può arrivare comunque fino a un certo punto è chiaro che ma penso che queste cose verranno dette per esempio una parte tutto il codice pomeriggio c'è tutta una parte di ottimizzazione che esula poi dal codice vero e proprio che quindi è lato server anche se il server comunque pesa il 10% quindi comunque non è che facciamo i miracoli bello avere i server performanti però comunque si arriva fino a un certo punto la cache è lato l'object cache cache è lato diciamo applicativo quindi ci sono delle cose che migliorano e queste sono diciamo magari anche a costi un po' più sostenuti ecco di avere un'ottimizzazione specifica e su misura queste sono chiaramente tecniche che a meno che non dovete fare un sito custom è fatica poi andare a farle cioè si possono fare perché poi dipende tutto come fatto in senso poi ci sono aziende che fanno dei temi comunque fatti bene IT per esempio fa dei temi che sono fatti bene e lì ci si può anche mettere mano grazie prego grazie mille mettiamoli un altro applauso che è stato super disponibile grazie 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 a tutti grazie a tutti